God bless them, God bless them Che cazzo, ho già un po' di coglione Sono tornato Non credo che però tornerò con la stessa voglia di più Anche perché tutto ciò che io volevo portare, che ho portato A meno che io non abbia poi quella voglia di portarne anche magari su un videogioco in particolare Vedrete, vedremo, vedrete, non lo so Siccome il gioco mi ha dato ADE, voglio dire che dovremmo andare in teoria con i Toxotes Perché ADE migliora gli acce Allora, innanzitutto quello che dovremmo fare è fare tutta una cinta di mura In modo tale da poterci difendere, anche perché il territorio è il nostro favore Cioè, come potete ben vedere, le foreste ci aiutano Questa qua, ad esempio, non la dovremmo minimamente toccare come queste tre qua Potremmo andare qui a disboscare la zona Perché queste ci serviranno come difesa naturale Intanto peschiamo qua Con queste cinque navi da pesca E' anche infatti Stiamo già Andiamo su chi? Andiamo sui ciclopi O di ciclopi Però stanno Siccome voi avete fatto Facciamo subito subito Una cinta di mura Perfettissimo Mi sto sviluppando molto velocemente Più o meno Però non è abbastanza Dovevi fare un esercito Però non è Già Prostagma 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 Oh Prostagma Malista Etimi Prostagma Vulone Esto Ok è morta Gritomos Prostagma Gritomos Effetto Così come voglio sfrutta questa zona Costruiamo delle mura E poi Disburgo Sfrutta questa zona Vulone Con questi andiamo a costruire questa 800 città Facciamo un'espansione Molto aggressiva Che ci permetterà di avere Molto spazio Molte risorse Anche perché qua attorno Sfrutteremo le zone Che ci offriranno Questi centricità Siamo anche In età eroica E facciamo Quello di apollo E Dovai Pazzo Ok Ci siamo Ci siamo Signori Andiamo qua Facciamo bel mercato Oh cazzi Miglioramenti Questi come ne sono dimenticati Completamente Pazzo Pazzo Voi Andate a disboscare Questa zona Qui a sto punto Miglioriamo un attimo In tutto Abbiamo un granaglio Sfruttiamolo Per eseguire I nostri potenziamenti Etimi Ma tu fatti Sfatti i tuoi Etimi Ora dobbiamo fare Una Due E basta Poi ne faremo Una terza qui Prostarman Poi Metà eroica Adesso Ma non ho raggiunta Quindi Etimi Sono un po' Adesso Mi attacco Sto facendo Un'espansione Molto Aggressiva In modo tale da Quasi come sorprendere il nemico Non è neanche la parola giusta Semplicemente Porca troia Ecco cosa Etimi Etimi Grevissimo Ma guarda che non si è estrenzi Un nemico abbastanza forte Un nemico abbastanza Sì ma in blu che cazzo sta a fare I blu è cretino Aspetta Vediamo se hanno bisogno di cibo Magari è questo Perché Porca troia Ma questi sono pazzi Questi sono pazzi Questi non avevano cibo Perché hanno fatto tutto sui Mettiamoci E vedi 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 che lo sapevo io Ma vedi che lo sapevo io Ma vedi che lo sapevo Deficiente che sei Deficiente Porca troia Che deficiente Guarda Guardali Deficiente Deficiente Ma che cazzo sto a giocare Guarda che cavolo Guarda che cavolo Etimi Ne Etimi Prostagma Esto Prostagma Ne E vece Prostagma Prostagma Esto Prostagma Prostagma Esto No vabbè Aspetta Però No vabbè aspetta però No vabbè aspetta però No vabbè aspetta però Prostagma 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 Ah! Eeeh! Prontiamo i... Cazzo ne so! Che più ovo qua! Che puoi staminire? Devo fare questa pazzia! Oh, ok! Ok! Ehm... Lege! Ehm... Pazzo dov'ai? Prostak ma... Lege! Lege! Ehm... Ehm... F***! A te vande! F***! Ehm... Ebbene sta fermo! Ehm... 14 ombre del nade gliene mandiamo qua a rompire i coglioni! Abbiamo delle fortezze, costruiamo delle catapulte, dei castrapedes... La fissa che so! D'altro! Vediamogli un po' di fastidio! Ehm... F***! Cofatti i cazzi due, pò! Oh oh! ma dopo lo sapevo io che pensi che non lo sapevo io che pensi che non lo sapevo io che pensi che non lo sapevo io Qua è tutto a posto Il motore è sopravvissuto Ah insomma Ora bisogna assolutamente attaccare Ecco tutto ciò che abbiamo Vaffanculo Forza Forza è inutile adesso perché hanno bloccato miglietà più inutili vedi vedete signori voglio dire non è che adesso io voglio dire non è che sono il primo arrivato non è che sono il primo arrivato non è che sono il primo arrivato il primo nemico è andato semplice tranquillo il mercato cadrà e va bene portiamo qui un po' di ciclo perché le cose stanno così io mi metto qua in mercato capite allora ti faccio proprio così voi andate in un'altra allora innanzitutto non dobbiamo rinigliere per questo gioco e fatevi i gatti si posti in secondo ma chi è Gaia mannaggia l'esco 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 San Antonio Ok, bene, bene Va me costruir Atrapa me Prefus 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 esvoli allora adesso noi attacchiamo gli atlantide da questa direzione il concetto è semplice, più unità abbiamo meglio è, meglio ne abbiamo prima schiacciate però noi siamo in pisto sceso in terra con questi qua, quindi adesso distruggiamo in un secondo questa caserma oh abbiamo pure gli esperiti, namo, forza, distruggiamo anche i manieri e cazzo ci vuole perfettissima, perfettissima avanti così, avanti così e gli distruggiamo veramente tutti no mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio serve tutto l'aiuto possibile, vedete i cinesi grazie a me, grazie a me vorremmo abbiamo assolutamente il corso di Google ammazzarati stronzi magari meno di mezz'ora non ci riesco ma snuna mezz'oretta ce la facciamo ad ammazzarmi per noi tutto è perduto si gasta per essere su veramente qualcosa di magico ma fate ste cazzo di esperti usiamo i loro stessi uomini bastardi costruiamo costruiamo andiamo forza non ci fermiamo lei che svolgirete sta potenziale perfetto suggerite anche questo ho con voi che attaccate da questo altonato aiutami in questo punto ma stai bene tu che non c'hai un cazzo di oro lo posso vengono tanto aspetta facciamo una bella cosa aiutiamo un attimo questo ok basta va ok fatto che ti costruivo eh madonna però dove stanno incastraverte perfetto attaccate qua voi distruggete perfetto perfetto dagli è namo prostaglio macchino ma c'è qualcosa che posso fare no stavo in scienza ma non c'ho oro prostaglio va bene avanziamo avanziamo via 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 però se c'è nel calos avanziamo giusto legge smacchino a me ha trantidea ah ma sono tutti i tuoi trantidei non me ne avevo neanche accorto che fosse la trantidea questo è un assalto a questi facciamo il cubo sono da somma non prostaglio legge vabbè no non dobbiamo anduggiare su sui bue per cazzo che il bue non c'è da niente dai così dai così cazzo ma a destra tutti ho punti di baffa comunque andiamo qua andiamo a costruire prostaglio malista legge forza forza io dove vai pazzo distruggete sto cento città del meta legge inganni ma che cumo quei inganni oh ma quest'altro è andato signori oh madonna mia signori 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 miei la vittoria è mia e ovviamente che spettacolo signori che spettacolo in meno di 30 minuti non solo ho caricato il blu perché ho caricato il blu dato mille di ora sto deficiente ho distrutto subito ma no signori miei ma di che parliamo dai su di nuovo primo in tutto e per tutto e beh io credo che questo sia un grande successo beh ragazzi con questa musica vi ringrazio per aver visto questo video spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace e noi ci vediamo a un prossimo video signori ciao 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 ciao